carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi inizia un nuovo mese mese di aprile e noi nel continuare la lettura del libro di david plat seguimi edito da clc crociata del libro cristiano iniziamo il capitolo 2 dove l'autore scrive che dio si serve dell'immagine dell'adozione per descrivere il rapporto che lui ha col suo popolo e questa metafora è diventata ancora più toccante scrive david plat per me per mia moglie header quando abbiamo deciso di adottare il nostro primo figlio abbiamo avviato le procedure e prendendo una decisione riguardo al luogo da cui potevamo adottarlo abbiamo messo un mappamondo sul tavolo e abbiamo pregato signore guidaci al bambino che tu desideri per noi ed egli il signore ci ha portati a una adozione internazionale dal paese del kazakhistan prima di dare inizio a questa procedura sapevo a malapena che il kazakhistan esistesse e dopo mesi di preghiera però abbiamo firmato il nostro modulo di adesione per adottare un bimbo kazako di lì a poco ricordo di aver detto a una donna che stavamo chiedendo l'adozione internazionale di un bambino uno vero mi rispose che razza di domanda e dissi tra me e me no ne rotteremo uno di plastica e lo metteremo come un soprammobile su una mensola per guardarlo certo che stiamo adottando un bambino vero pur avendo risposto con maggiore delicatezza era così che mi sentivo dentro poi la realtà incominciò a prendere piede ci stavamo accingendo ad essere una vera madre un vero padre per un vero figlio o una vera figlia che al momento non aveva alcuna vera famiglia che si curasse di lui o di lei le procedure per le adozioni internazionali possono essere lunghe e per molti versi estenuanti qualcuno le ha descritte come una gravidanza a base di scartoffie sostanzialmente bisogna dimostrare ai due governi di essere la famiglia ideale prima abbiamo dovuto sottoporci a un esame alloggiativo che aveva un po il sapore di una sfida dato che casa nostra era stata da poco sommorsa dall'uragano catrina di new orleans grazie all'aiuto della nostra famiglia e di varie chiese mettemmo insieme più velocemente possibile un appartamento improvvisato un operatore dei servizi sociali ci fece visita e ci posse delle domande sulla nostra vita la famiglia il nostro matrimonio quello che pensavamo sulla genitorialità faceva parte dell'esame abitativo anche il farsi prendere le impronte digitali da un infinito numero di organizzazioni governative o amministrative degli stati uniti poi e io abbiamo dovuto trovare un medico che ci visitasse ci facesse un certificato di idoneità fisica per noi come genitori ci recamo nello studio del medico e tutto andò bene dopo gli studi sull'idoneità abitativa le procedure per le impronte digitali e le visite mediche incomincia il lungo estenuante processo dell'attesa non passava giorno che non pensassimo al nostro figlio chiedendoci se sarebbe stato un maschio una femmina aspettando con ansia il giorno in cui avremmo potuto tenere piccolo tra le braccia finalmente circa un anno dopo ricevette un'email era la foto di un bimbo di nove mesi abbandonato alla nascita e bisognoso di una casa di una mamma di un papà stampa le foto e così le mostrai a header ridemmo piangemmo ci rallegrammo pregammo e nel giro di due settimane eravamo su un aereo diretto nel kazakhistan all'arrivo nella città di nostro figlio fummo immediatamente portati al suo orfanotofio dove la direttrice ci venne incontro e ci accompagnò in una stanzetta ci mise a conoscenza di ogni sorta di informazione medica riguardo al nostro figlio e poi accadde una donna comparve da dietro l'angolo con un prezioso bambino di dieci mesi tra le braccia e non ci sono parole per descrivere l'improvviso profluvio di emozioni che inondò la stanza la donna ce lo consegnò e per la prima volta kaleb plat fissò gli occhi di una mamma e di un papà nelle quattro settimane che seguirono visitammo kaleb nel suo orfanotofio lo tenevamo in braccio gli davamo da mangiare gli cantavamo qualche canzone ridevamo con lui e gattonavamo con lui sul pavimento finché non giunse finalmente il giorno dell'adozione fummo istruiti su cosa indossare cosa dire cosa aspettarci quando ci saremmo trovati di fronte a un giudice cazzaco in quell'aula di tribunale il cuore ci batteva forte mentre la procedura legale aveva luogo e dopo numerose domande testimonianze sull'ambiente di provenienza di kaleb il giudice pronunciò le fatidiche parole convalido questa pratica di adozione questo bambino appartiene ora david e header plat uscimmo dalla stanza con le lacrime che scendevano dagli occhi pronti ad andare a prendere kaleb nel suo orfanotrofio per l'ultima volta anche se i paralleli tra la storia di kaleb quella del vangelo sono molti ce n'è uno particolarmente significativo e su cui vorrei soffermarmi un'adosione di questo tipo parte da un'iniziativa dei genitori non da un'idea del bambino e quando kaleb non era neppure ancora nato in kazakhistan aveva già una mamma e un papà che si stavano dando da fare per adottarlo mentre kaleb giaceva da solo di notte in un orfanotrofio del kazakhistan aveva una mamma e un padre che stavano programmando di adottarlo e un giorno quando kaleb fu messo tra le braccia della mamma e del suo papà non aveva alcuna idea di tutto quello che era stato fatto in maniera del tutto indipendente da qualsiasi iniziativa da parte sua e anche se questa cosa sembra ovvia e di importanza decisiva non è stato questo prezioso bambino di dieci mesi a invitarci ad andare da lui in kazakhistan per portarlo nella nostra famiglia non sarebbe neppure stato in grado di chiedere una cosa del genere no quell'orfanello è diventato il nostro amatissimo figlio a causa di un amore che andava assolutamente al di là della sua immaginazione ed era completamente al di fuori del suo controllo non è stato lui a cercare noi perché sarebbe stato totalmente incapace di farlo invece siamo stati noi a cercare lui e questa è l'essenza del cristianesimo e noi la perdiamo facilmente di vista quando descriviamo il fatto di diventare seguaci di gesù come un invito nei nostri cuori la verità del vangelo è che in ultima analisi noi non diventiamo figli di dio grazie a un'iniziativa che parte da noi e la prima ragione per cui egli ci offre la salvezza non è un invito da parte nostra invece prima che fossimo nati dio era già all'opera per adottarci e mentre giacevamo soli nell'avviso del nostro peccato dio stava progettando di salvarci il solo modo con cui possiamo diventare parte della famiglia di dio è grazie a un amore che va totalmente al di là della nostra immaginazione e che è completamente al di fuori del nostro controllo il cristianesimo non incomincia con noi che cerchiamo cristo ma con cristo che cerca noi il cristianesimo non inizia con un invito che presentiamo noi a gesù ma con un invito che gesù porge a noi e questo invito ancora stamattina si rinnova ed è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di vita e vita eterna cristo può salvare ancora oggi e può operare nella vita di quanti si sentono soli e abbandonati per dargli una speranza e un avvenire dio ci benedica pace del signore a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti